Da oltre 60 anni, la OMAZ progetta e produce batterie per ovaiole, pollastre e broilers. La costante ricerca tecnico-scientifica, la curata verifica e selezione delle materie prime, l'elevata capacità produttiva, l'assistenza in fase di progettazione, realizzazione e manutenzione, fanno di OMAZ l'azienda leader nel settore avicolo a livello internazionale. Oltre ad impianti avicoli completi, la OMAZ progetta e realizza sistemi di ventilazione, umidificazione e riscaldamento con controllo elettronico ambientale e sistemi per l'essiccazione della pollina. Affidabilità, innovazione, personalizzazione e durata. Sono queste le caratteristiche degli impianti OMAZ che riflettono perfettamente l'azienda e i suoi valori. L'intero processo produttivo è realizzato nella sede aziendale attraverso l'utilizzo di macchinari di precisione in mano d'opera altamente qualificata. Ogni nostro impianto soddisfa in maniera completa qualsiasi esigenza attraverso una vasta gamma di modelli. Le linee di batterie per ovaiole e space fondono il design alla tecnologia più moderna, alla praticità di utilizzo e alla cura dei particolari. Open Space è un modello di voliera progettato per l'allevamento di galline ovaiole a terra. Nidi, trespoli, linee da beveraggio e distributori di mangime perfettamente integrati nel sistema sono di facile visione e dispezione, stimolando anche il naturale comportamento delle galline stesse. La gabbia Broiler Space è un valido esempio di batteria per polli da carne, efficiente, funzionale ed esclusiva. Caratteristica principale è il fondo della cella, realizzato in materiale plastico, così da prevenire la formazione di vesciche sullo sterno dell'animale. Il fondo estraibile permette il carico dei broilers dalla testata attraverso il nastro in poli propilene sottostante, normalmente utilizzato per la pulizia. OMAZ realizza inoltre un sistema per l'asciugamento della pollina, sfruttando l'impianto di ventilazione, che permette di abbassare in pochi giorni l'umidità dal 90 al 15-25%. OMAZ è innovazione, studio e conoscenza delle problematiche del settore. Per questo ogni nostro impianto è espressione di stile, funzionalità, passione e tradizione italiana, che si coniugano in un prodotto altamente efficiente e durevole nel tempo.